Il numero di lavoratori in regime di riduzione dell'orario di lavoro è senza precedenti nei vari paesi dell'area dell'euro e in Italia. Le stime preliminari parlano di 8,1 milioni di lavoratori, 42% dei dipendenti, che hanno avuto accesso alla CIG e quanto scritto nel bollettino economico della BCE in cui per l'Italia si stima un tasso di disoccupazione a ridosso del 25%, includendo i lavoratori in CIG a zero ore. I tre mesi di lockdown in piena emergenza coronavirus hanno determinato un calo del mercato del lavoro di circa 500.000 occupati. È la drammatica fotografia del direttore Istat Roberto Morducci, che inoltre osserva come oltre un terzo delle imprese abbia denunciato fattori economici e organizzativi che mettono a rischio la sopravvivenza, rivelando una difficoltà per la sostenibilità dell'attività da qui a fine anno. Agevolazione per gli amanti delle due ruote dal decreto rilancio. Fino al 31 dicembre 2020 l'ecobonus per l'acquisto di uno scooter o una moto elettrica coprirà il 30% del prezzo, fino a un massimo di 3.000 euro senza rottamazione. Se invece si rottama un altro veicolo, la copertura sarà al 40% del prezzo d'acquisto, fino a un massimo di 4.000 euro. Soddisfazione espressa dall'Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori, che nel nuovo ecobonus vede l'occasione di allargare la platea di utenti delle due ruote, un settore che ha sofferto il lockdown ma che adesso raccoglie i frutti del cambiamento di mobilità in atto. I numeri parlano chiaro. Nei primi sette mesi del 2020 sono stati immatricolati 2.166 ciclomotori, più 36% sul 2019 e 1.798 tra scooter e motocicli, più 158% sull'anno precedente. Mari italiani particolarmente limpidi dopo il lockdown, una situazione nel complesso stabile per le sostanze legate alle attività produttive. È il primo quadro che emerge dal monitoraggio straordinario effettuato dal Sistema Nazionale per la protezione dell'ambiente. Le analisi sono state condotte su 457 stazioni marine di prelievo. Il ministro dell'ambiente Sergio Costa ha detto il nostro impegno è ora mantenere questi standard di qualità.